amici e guilani amanti delle cartoon cover band vi annuncio che sabato 2 luglio avrete la possibilità di ascoltare la miglior cartoon cover band campana i zeppin cartoon project vi stuzzica l'idea è golosoni perciò adesso prendete carta e penna e pronti ad appuntare sabato 2 luglio dalle ore 21 e 30 in piazza san rocco a scanno paese in provincia dell'aquila ci sarà il concerto della spettacolare fantastica strabiliante cartoon cover band campana i zeppin cartoon project perciò amica guilano mi raccomando non farti scappare quest'ottima occasione e ricorda che se manchi è peggio per te grazie